Tu hai segreti con il Signore? Perché guarda che Lui vuole avere dei segreti con te. Lui vuole vivere una relazione così profonda da trasformarti in ambasciatore, apostolo di Cristo, cioè un alter Christus, un altro Cristo, un discepolo come colui che lo ha inviato, in modo che dovunque tu vada, in te, con te, perché attraverso di te, attraverso le tue parole, attraverso i tuoi gesti, attraverso la tua testimonianza, attraverso il tuo martirio, arrivi Cristo. Capisci quanto è preziosa, importante, unica e irripetibile la tua vita. Tu sei stato amato, pensato, scelto, messo da parte, dall'eternità e per l'eternità, per essere discepolo di Gesù, per conoscere il suo amore ed essere partecipe dei suoi segreti, del suo cuore, per ascoltare le sue confidenze, le confidenze dell'amato. E quali possono essere le confidenze dell'amato? Ti amo, ti amo, ti amo infinitamente. Io parlo in te, il mio pensiero è nel tuo pensiero, il mio sguardo, i miei occhi sono nei tuoi occhi, sono il tuo sguardo, le mie parole sui tuoi labbra. Non avere paura di chi può toglierti questa vita terrena. Se io sono in te, se tu sei una sola carne con me, tu hai dentro vita e vita eterna. Per quanto possano toglierti la vita, non potranno toglierti la vita eterna, non potranno separarti mai da me. Ti ho amato in questo peccato, ti ho amato in questo errore, ti ho rialzato da questa caduta. Con infinita tenerezza, culo le tue ferite, illumino a poco a poco la tua storia, perché tu possa vedere in essa le orme luminose del mio amore. Io parlo al tuo cuore, per questo ti attiro nel deserto, dove non ci sono consolazioni, forse in un letto d'ospedale, e dichiararmi a te, fare della tua anima la mia sposa, nella fedeltà, nell'amore, perché tu possa annunciare al mondo quello che io ti dico nel segreto, sulla croce, nella storia che tu stai vivendo oggi, dove tu sei debole, e dove io sono forte in te, perché l'intimità di Cristo con ciascuno di noi è essa stessa la testimonianza alla quale siamo chiamati. Più intimi con Cristo, più Cristo appare vivo in noi, e le persone potranno udire dalla nostra voce le sue parole, che esiste il cielo, che la morte è vinta, perché vedranno la morte vinta in noi. Coraggio allora, non temere, perché tutti i tuoi capelli sono contati, non c'è istante della tua vita nella quale sia assente il Signore, non c'è lacrima che Lui non prenda nelle sue mani, non c'è grido che Lui non ascolti, non c'è desiderio profondo del cuore che Lui non esaudisca, donandosi completamente a noi attraverso la Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la Sua parola, attraverso la comunione celeste che nell'intimità della comunità sperimentiamo e che risplende come la verità e la salvezza nel mondo.